In questo convegno parliamo di due aspetti molto importanti. Uno riguarda la lettera anonima che arrivò all'avvocato di Pacciani e al quotidiano La Nazione mesi prima la maxiperquisizione a Pacciani, dove veniva chiaramente detto di stare attento perché nell'orto del Pacciani qualcuno poteva mettere un qualcosa e invecchiarlo e interrarlo. Questa è una lettera anonima che viene spedita a novembre, il 18 novembre del 1991. Pacciani era appena in carcere ed ha appena iniziato il suo iter giudiziario per i delitti del mostro. In effetti ad aprile 1992 troviamo il proiettile interrato e invecchiato nell'orto di Pacciani. Questo secondo me è un dato molto importante che è stato un po' trascurato. Una lettera mai uscita che io ho rinvenuto negli atti processuali è nel processo Pacciani. C'è stato anche un procedimento successivo, un supplemento di indagine allora da parte di Pierluigi Vigna che ha portato poi alla soluzione di un soggetto. Però sarebbe interessante identificare e capire chi mesi prima ha detto un qualcosa che poi realmente si è verificato. L'altro scoop, l'altra news di questo convegno riguarda la perizia sullo straccio trovato a casa di Salvatore Vinci. Cosa ci puoi dire su questo? Dunque, Salvatore Vinci era l'ultimo indiziato della pista sarda, quindi il giudice Rotella sappiamo che poi chiuse la questione nell'89 con una soluzione. Lo straccio di Salvatore Vinci appunto fu trovato il 30 luglio dell'84 nella sua casa e venne periziato. Poi diciamo se ne persero le tracce. Io ho rinvenuto... Uno straccio dove diciamo c'erano tracce di sangue e tracce di polvere da sparo. Allora, erano presenti tracce di sangue diversi, di due gruppi sanguigni diversi, rilasciate in epoca diversa. Ed era presente tracce di sparo di una pistola che aveva sparato. La cosa che faremo vedere e quindi io avendo recuperato la perizia sono in grado di dimostrare documentalmente è che è vero che c'è stata una pistola che ha sparato in quello straccio, è vero che c'è due tipi di sangue però è presente nella perizia l'antimonio e sappiamo che i proiettili Winchester, questo da numerose verifiche non contengono l'antimonio, quindi una pistola che ha sparato ma non la pistola del mostro di Firenze.